Anfaccia a tutti ragazzi, qui accanto a voi, bentornati a nuovo io, bentornati a nuovo The Challenger Inside Non è vero, è una cane solo mid La The Challenger Inside mi sto aspettando a portarla Perché diciamo che mi servono le miniature Vedete adesso il green screen non lo posso mettere perché c'è l'ombra dietro quindi no, non posso usare il green screen Comunque non posso portarvi le The Challenger Inside Oh mamma sto a fare un video, poi dopo come dici? Capito? Ok, non posso portare The Challenger Inside mi perché mi servono le miniature E ora ho chiesto anche al grafico vecchio se potesse rifarmle Ma solo, senza numero, solo con i champion In modo tale da usarle per tutta la vita Mamma sto registrando ti ho detto Chi è? Nonna? Ciao nonna Se sto registrando Vedi però mamma qual è il lato positivo di sta cosa? Mamma Il lato... Mamma! Mamma! Ragazzi abbiamo scoperto una cosa assurda Il lato positivo del telo è che può annaffiare le piante senza neanche un percazzo È perché non te vedono È incredibile ragazzi Queste... sono... sono... Oddio non ci posso credere Andiamo ma Andiamo a conquistare Go 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 Ma dov'è? Ma dov'è? Ha avvenuto! Abbiamo un po' di che cosa si è Questa sarà Pityard E ho detto lo fa tipo di mettere Stacca on to Moatrick.it Una cosa del genere D1 Femette ha un supporto italiano Lo conosco Era D2 e D1 La scorsa season Non so perché me lo so Giocato con lo smart Forse o c'ho l'MMR alto Perché io sto in promo Per play di uno Con una vinta e una persa O No lui è D5 Infatti È D5 Ha pure D4 contro Vabbè Ci siamo Giocate mid Come c'è il sistema Contro Ciocat Dobbiamo washoutarlo Doggiandogli il silence Vediamo Il healing phase Lui è più forte di me Ha più push Ha più Cioè non riesco a pusharlo A Ciocat Mi pusha lui Poi il fatto che si refulla Anche con Cioè nel caso in cui Lo rassassi Poi lui si refullerebbe Sui minion Io non ci riuscirei Per questo non gli sto facendo Le W Perché tanto sarebbe inutile A parte che a livello 1 Le W sono inutili Sprecherai solo mana Mi servirebbe solo Diciamo a ridipusciare la wave Infatti lo userò in questo modo Vedete mo' l'usere full L'acqua Guardate Io ho levato quello là Killa 2 minion E di nuovo full vita È la sua passiva È forte per quello Per questo Ciocat si deve andare A all in C'è la sua passiva Perché non voglio Perché non voglio perdere Perché guardano Su sto d'ora Non lo so Quindi ci ritanchiamo Porterò la E No Porterò ancora la W All i valutori Perché tanto non ci voglio Ingaggiare Non è un matchup In cui ci voglio Ingaggiare adesso Avrei sicuramente Meno danni di lui No Quindi porterò la W Per clearare meglio E via Ok Ci muore? Sono stato pricchi a laghi Ragazzi vedete Dovevo flashagli la Q Dovevo flashagli la Q Sbagliato io È stata my bad È stata veramente my bad qua Porca droga C'è il Thunderlord Eh cazzo Non ho calcolato Niente del Thunderlord Penso che non avesse il Thunderlord Dovevo sapere Holy shit È stata my bad È anche di brutto Ragazzi È anche di brutto Se avessi flashato con la Q L'avrei killato Solo che Io stavo andando avanti Forse Dovevo sapere Che lui mi avrebbe fatto La Q in avanti E dovevo tornare indietro Che se avessi flashato in avanti Poi Lui avrebbe Sarebbe scappato dall'altra parte Capito? Per questo non ho flashato Ho sbagliato Vabbè dai Ripetendiamoci questo game in mano V-job bot Ah Questa era my bad Cazzo Mo so coi ragazzi nostri Cioè non c'è demore di Nirli Contro questo In teoria di Nirli Io sono più forte di lui A livello 3 A livello 4 Così io sono più forte di lui Io voglio alle skill ogni tanto Io basta Io vado tutto Attacco e lo spacco Ho messo a casa il Thunderlord Seriously Dai che forse prendo solo un minion Ho preso tutto 2 Ho preso pure la Guild of Vayne Quindi adesso l'esperienza sta ancora più avanti Ma ma se li stai fk Non so Ma andiamo verso qua E poi andiamo verso qua Ok Non dobbiamo farci prendere di cuore Ho abbastanza mana per una combo io Quindi quando faccio il 5 Posso che gli abasto Ok Ok Buono così Oh buonissimo qua Perché adesso lui perde Poi è una maria di minion Giocato Buono Regaliamo Credo che non siamo riusciti a fare il 6 Eh sa prendo tutto il masterista Non sa che fa pure il 6 Può essere si Ho fatto il 6 Ciao Ciao Ehm Sto pensando Se Mi faccio una Torance per lì da adesso Perché Mi conviene farmi qualcosa di vita Forse La Black Cleaver Forse no Forse ci facciamo la Tiamat adesso Però non so Non abbiamo abbastanza cooldown poi Ah mi convi Mi chiedo Non so perché Un po' di vita ci serve Ci deve Eh ciò che è un po' Eh ma flight non può fa niente contro Ma Gp A sto livello Si deve lasciare tipo il gauntlet E andare in faccia Qualcosa del genere Allora ha fatto il 6 E ancora non si è mangiato un minion Holy shit 1x1 Va bene così Eh ha fatto un bel po' di true damage Avete visto? 3 night E ultimo avrà levato super giù 450 Sto pensando a una cosa Mi conviene fare la Black Cleaver Ho qualcosa che mi dia Anzi la storia che facciamo adesso Non ve lo dico io che facciamo Ci guidiamo Scarpe e Ghostblade E poi ci facciamo lo Sterak Perché A parte che pure V contro Master 10 Potrebbe servire Ma almeno lo Sterak L'hanno nerfato Però ci darà Un po' di Eh vita All'inizio Comunque un po' di AD E lo scudo Per quando ci mangerà Comunque giocate È quello che ti fa la combo E ti leva così tanto Direttamente In una sola bot E il problema è che Lui adesso ha preso L'AX della kill E io non l'ho presa Questo è un gran bel problema Ragazzi Dovrei tipo Freerotare top Sempre free kill Holy shit C'è un silence Troppo forte Ragazzi Mi devo fare Mercury Mi devo fare forza Le Mercury Holy shit Dovrei forza Dovrei forza A livello A livello 1 Eh un matchup Non lo so Non mi ho giocato In realtà A questo matchup Poi c'ho Cutco di Knight È abbastanza forte E l'Electric game Sicuramente Lo otta Scaliamo Ma qua ho guardato L'hanno visto Lo sa Qui avevo guardato Mi devo fare le Mercury Per forza Sennò il silence Mi dura troppo Mi devo fare le Mercury Pum pum Ho fatto anche la glottarma Quindi a shottarlo Non ci riesco Non ci riesco Ok 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 Questo è morto Cazzo Però c'è il Master Non ci posso partire Non c'è morto Ok O forse Deve andare full a d Invece le Mercury Non vuole dare fa Nel caso Così ci dobbiamo La combo Io lo shottavo meglio Andiamo per la Tiamat C'è che alla fine C'è quello che dobbiamo far Noi Stattare le dosi E shottarlo Non ci serve Non capisco Perché mi stavo a fare Idem da tank Se alla fine Non ci serve Mi sarebbe servito No C'è io Ci devo partire Shottarlo A questo punto 9 in 9 in 9 in 9 in 9 in 9 in Questo è stato un po' stupida Poi è pure Alistair a questo punto non capisco che cosa cazzo oh non ha la W giocata a questo punto non capisco Cioè vedete non potevo deva perché mi sono fatto tankare i minion Cioè quando sono andato qua sotto c'erano i minion Ma ultato c'è l'arte Ma ce l'avevo Ma infatti c'è morto da master Ma Che palle però Si sono fatti chila come stronzi Cioè dovevano rimuovere i barili dei GP non ci voleva tanto Lo potevi fare con un attacca sia l'ullo che il grigio Va bene Tipo l'ullo si doveva mettere qua In modo tale che se il GP avessi messo il barile Avete acclerato Ho macchilato pure ciocatte Porca troia Vabbè sono stati bravi Però a questo punto io potevo andare direttamente sotto d'ore Il problema sapete qual è che se io avessi fatto lei su GP Probabilmente Alistair avrebbe fatto la ulti Cioè avrebbe fatto la Q E poi che avrei fatto io? Ho preso under Q Ma sarei preso ecco che avrei fatto What the fuck che cazzo ha il telefono Don't cross me Vabbè i farm siamo leggermente sotto la media ma Paraco ciocatte probabilmente Che a noi va benissimo Infatti sta prendendo una marietta pizza ma Cioè il Grazer lo do aiuto in early game Io non so la vedo Se sta a fare la Zonia Il bastardo Si sta facendo veramente la Zonia Non ci posso credere Grazie Ben avrà fatto una cazzata là Sto sicuro perché se no non ci sarebbero morti Ha sbagliato Vayne Scendiamo anche noi Mettiamo un'altra ward qua Perché non voglio trovare Il Master dietro che sta Super sfiddato Grace non mette pressure Proprio niente Regaliamo Abbiamo la Tiamat Ah si ci facessimo La Ravenous Sider E la Titanichidra Tan 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 Vedete i giocatte Stanno dando di item Off Difensivi Quindi io direi che era Mercury Adesso me le rascio Adesso ci facciamo La Ghostbred anche Per avere un po' di armor pen Lui se sta a fare la La Zonia Con la Zonia Non solo gli da armor Ma anche gli permette di Di zoniare Quando magari io sto in ulti Non gli faccio più danno Questo è un bel dito nel culo ragazzi Io forse dovevo romare Più volte i top Perché il GP comunque Non aveva escape Contro more fight Però stavo già con le pezze Al culote mio Quindi Sto vedete che ho preso La Tiamat Perché Con una W Tiamat Riesco a prendere la wave Anche se adesso ho affilato Non so perché ho più L'abbiamo Attenuto del blu A quanto pare No Oh Questo Mastery Dove rishottarlo Passiamo più Vicino al muro possibile C'è Stanna fa l'herald Mastery e GP Bianca bot Grise Grise adesso deve Biancare bot Perché Sono sicuro Che il Mastery Si all'herald Si all'herald Pure per le stack Ma potevano dei vari Ma perché Che cazzo C'è una pink Qua dentro Ma aiutamme No Ma quello Mi push La wave Mi blocca Qua Si all'herald Sola del cannone Prendiamo la torre qua Noi mettiamo un po' Di pressure Ah Presolita No Got the flash Got the flash Cazzo Volevo flashare Qua Ma questo silence Mi ha interrotto Eh ma il fight Ha afferrato la ult Quasi mi sono stati un po' Lachio Ma non è quello Cioè Vayner ha sbagliato A posizionarsi Vayner Sapete che cosa dovete fare Se siete Vayner E state contro Mastery A parte che non c'aveva l'ulti Però Non pensavo che non aveva l'ulti Però Se andate invisibili Non lo Attaccare Se non vi ha fatto la Q Ok Andare invisibili E scappare Se non vi ha fatto la Q Mastery Perché se ritornate visibili Vi fa la Q E poi vede un per culo Perché vi lancia due Trato attacchi Capito? Capito che dovete fare Riga Mo' io ho afferrato il flash Come uno stronzo Poi il silence di giocato E qua GP che ha flashato GP no F GP che ha flashato Qua raga Mi ha fottuto i piani Sapete? Lui vuole flashare Per prendere loro Ma mi ha fottuto i piani A me Non mi pusha La Q Ma perché? Che sta a fare? Che sta a fare Mi hit Ah beh Meno male che ha dormito Prima l'ho presa Servo aiuto top Malphite Farate quella ulti Raga su Mastery Che poi Allora Credo che sia stata fortuna Perché Sia Mastery Non si aspettava la ultima Di Malphite E soprattutto Malphite Non si aspettava la Q Di Mastery E' stata più Una coincidenza Non credo che Mastery L'abbia fatta apposta Per doggere la ultima Di Malphite Mi piace anche Mastery Vabbè Non possono pusha Arigama Vuol dire Se veramente Contesta un drago A quelli Eh capone Dio santo Mi pare che sia stata Quelli handicappati Basta 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 Raga Madonna Santa Raga Mamma mia Ma lo fanno apposta Ma si fanno il Baron Questi Lo fanno apposta Sì o no Fammi vedere un po Dobbiamo shuttare Facciamo la La Dusk Blade of Xen Stag Tar Ma forse no Attenzione Combo Coming No no Non ho Non ho Non ho cooldown Questo è pretty bad Molto forte 10 su 10 Non ho cooldown Buono 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 la Dusk Va bene Va bene Aspettiamo Crazy E ci possiamo partire Ult Ult Quindi ci es Ult 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 Grazie a tutti Buona, ora c'è una zonzara qua che vuole prendere il cazzo Ecco, ho ammazzato la zonzara Vaffanculo Cicchifosa Zucchia sangue Cagna Vediamo qua Ok, dammo stream qua Oh, buon job, ragazzi E questa è la vittoria? Hanno trovato qua, eh Gli avversari hanno trovato un casino, ragazzi Chiratevi anche Chocat Con questa cosa non è Hanno trovato un casino con questa cosa È stato un buon fight Ora vado a prendere il mio reclamato rosso Poi non lo prende, secondo me, sta torre Andavano deep su Chocat Let GP as ult Chirate Ciao a tutti La dovremmeno prendete la cazzo Bella la Q di Lulu Arrivo top, mate Arrivo top, arrivo top Non regallare Non regallare Poi ci viene un contro, mate La tua religione significa nulla a me C'è che sto da detto a sto guglione Ah no, c'è un seri qua, c'è un seri qua Via 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 Un top Tutti, un top Perché non l'ho nitato? Perché non l'ho nitato? MB Potevo nitare GP Ho sbagliato io È stata my bad qua ragazzi Ho perso io sto fight Ma forse no, ho visto il GP che stava già qui Ragazzi, sapete? Non l'ho proprio visto Holy shit Che my bad, cazzo Ah, ecco Hanno rifiato il GP con i barili Nel fargo Non so se c'è tanto se è un match Ah, bravo il GP Ho messo il bel barili Madonna I sali stai giocato Bot push Harde al nostro Morivo anch'io Ci compriamo le resire Che ci dà un po' di Mon Di hero Di Stiamo giocando pretty bad Ragazzi Quindi focussiamoci Se non essi avessi avuto Questa bot E questo jungle Probabilmente avremmo perso Perché sto giocando di merda Però Focus Guarda il bot, c'è Alistair bot, piume sul Baron, piume sul Baron, c'è un cattoletto che sta regalando, Alistair bot, Baron, cazzo E questo? Il master è troppo forte, cazzo Fight Il master è a boh di blocchiare, cazzo Buono da poco Ciao a tutti La kill ragazzi, la kill perché, cioè, dobbiamo Dobbiamo fare un po' di PDA ragazzi, cioè Ma lasciami a me top, ma regalla, mostro Ecco, ok risolto, ho preso qualche minion, no Mi servono i gold ragazzi perché devo farmi il brucca al baccala Sono rimasto qua perché mi servivano proprio i soldi della torre, quindi devo stare vicino Credo, quelli di 110 gold in più Per farmi questo item, adesso mi faccio lo stack Assolutamente sì, lo stack Oh oh oh, bleeding, natural, granicoli Comunque questo mondo così è anche più piacevole, no, vedete quel green screen? Molto piacevole, molto sensibile Exit Però veramente il drago, cioè, stiamo a pushar qua Mai non mi sa far drago Però boh Vado a pushare il bot Ragazzi, probabilmente cambierò la serie e l'old alla Z, ovvero che il champion lo sceglierò io Il champion più in modo che è Il più usato in quel momento lo sceglierò per fare delle miniature, ad esempio Probabilmente adesso, visto che il Naldus è il champion che... Stanno abusando di top laner compreso... no, io lo so da una volta Però molto fatto come il champion adesso che ho ridonato anche il... Il 008, probabilmente farò una l'old alla Z su Naldus Fatemi sapere se... Oh, è tanka! Tank me! WTF, Malf! Ok Ogni tato C'ho tutti Mamma mia, ma il Fett la doveva tankare Non so perché non l'abbia tankato Nice Abbiamo preso un po' di KDA alla fine ragazzi Perché non ci serviva Non ci serviva il KDA Gli abbiamo giocato male però ragazzi Siamo andati di Platino 1 Dai che ora portiamo anche questo a Diamond Così avremmo 3 account in Diamond Comunque ragazzi il video è piaciuto Devo lasciare un bel like Se lo commentate Se lo condividete Faccio a tutti i ragazzi che ne trovo Ciao belli